Allora Duca, partita tutta sommata tranquilla ma con gli ultimi in classifica non sai mai poi come va a finire, le sorprese possono sempre esserci, però alla fine 28-20. Ma sicuramente era una partita per noi più che positiva, quello che è stato molto importante è che hanno esordito dei ragazzi giovani, sedicenni, hanno fatto anche gol e questo è molto importante per il futuro nostro avere dei ragazzi di questo livello sicuramente. Senti, ci stiamo avvicinando un po' alla fine di questa girone regolare con delle incognite non di poco conto visto che quest'anno è veramente dura e sarà lunga, speriamo non è stata, però comunque primavera la faremo anche inoltrata. Sicuramente tornare dopo tanti anni al girone unico a 14 squadre su tre gironi è evidente che sarà una serie di, se riusciamo a rimanere nelle prime quattro, una serie di play-off infiniti per arrivare poi a fare il girone unico che è la nostra aspirazione. Senti, parlando proprio di girone unico, la situazione economica per nessuna società tranne qualcuno in Alto Adige, possiamo riferirla tranquilla, si è parlato in Lega della possibilità comunque di a questo punto trovare degli aiuti anche alla società perché veramente i costi il prossimo anno saranno esorbitanti per chi parteciperà al girone di massima serie. Sì, ma la Lega purtroppo sostanzialmente non esiste, la federazione ha deciso di tornare al girone unico, era da anni che si diceva di tornare al girone unico, adesso però chiaramente per tante società la situazione economica non è facile, il lavoro da fare è cercare degli sponsor che ti possono sostenere in un momento molto importante.